Le equazioni di Maxwell complete comprendono dei termini non stazionari. Le riporto di seguito. La prima, il teorema di Gauss per il campo elettrico, flusso del campo elettrico attraverso una superficie chiusa S, uguale, carica totale presente dentro la superficie, diviso ε con 0, la costante dielettrica. La seconda equazione, circuitazione del campo elettrico lungo una curva chiusa, uguale, non a 0 come nel caso stazionario, ma a meno derivata del flusso del campo magnetico concatenato con la linea chiusa, lungo la quale si calcola la circuitazione, rispetto al tempo. Terza equazione, flusso del campo magnetico attraverso una superficie chiusa S, uguale 0. Quarta equazione, circuitazione del campo magnetico lungo una linea chiusa, uguale μ con 0 per la corrente totale concatenata con la linea chiusa, più il termine della corrente di spostamento μ con 0, ε con 0, derivata del flusso del campo elettrico rispetto al tempo. Il flusso del campo elettrico concatenato con la linea chiusa lungo la quale si sta calcolando la circuitazione, esattamente con lo stesso criterio con cui si calcola il flusso del campo magnetico e la sua derivata nella seconda equazione per calcolare la circuitazione del campo elettrico. I termini non stazionari a cui facevo riferimento sono questo derivante dal fenomeno dell'induzione elettromagnetica e questo derivante dal fenomeno della corrente di spostamento. L'intensità di corrente di spostamento è determinata da questo termine qui. In pratica nel determinare la circuitazione del campo magnetico contribuiscono sia la corrente reale concatenata con la linea chiusa che è la corrente di spostamento. Ora, proprio questi due termini non stazionari sono alla base del fenomeno della propagazione delle onde elettromagnetiche e lo abbiamo accennato nella scorsa lezione sull'equazione di Maxwell e sui due fenomeni che abbiamo citato. Esattamente andiamo a esaminare il caso in cui non ci siano delle cariche nella regione di spazio esaminata e non ci siano delle correnti elettriche. Quindi gli unici fenomeni in natura elettromagnetica che possono coinvolgere la regione di spazio interessata sono fenomeni di natura non stazionaria legati alle variazioni nel tempo del campo elettrico e del campo magnetico. Quindi possiamo semplificare queste equazioni ipotizzando che non ci siano cariche elettriche nello spazio e non ci siano correnti elettriche. In questo caso, tanto la prima quanto la terza equazione ci danno un flusso nullo. Io per il momento riporto soltanto le equazioni che mescolano il campo elettrico insieme al campo magnetico in un modo quasi simmetrico. Le due equazioni della circuitazione Circuitazione del campo elettrico uguale meno derivata del flusso del campo magnetico concatenato rispetto al tempo e circuitazione del campo magnetico uguale a μ con 0 e ε con 0 derivata del flusso del campo elettrico concatenato rispetto al tempo. Come vediamo, al di là del segno o di alcune costanti presenti per dare le corrette dimensioni alla grandezza calcolata, sostanzialmente sono abbastanza simmetriche queste equazioni. La prima calcola la circuitazione del campo elettrico utilizzando la derivata rispetto al tempo di una grandezza legata al campo magnetico. La seconda calcola la circuitazione del campo magnetico attraverso la derivata rispetto al tempo di una grandezza legata al campo elettrico. Sono proprio queste due equazioni che mescolano insieme i due campi e determinano il fenomeno della propagazione delle onde elettromagnetiche. In cosa consiste questo fenomeno? Beh, è chiaro da queste due equazioni che una variazione nel tempo delle caratteristiche del campo magnetico può determinare la generazione di un campo elettrico e viceversa, un campo elettrico variabile nel tempo può determinare la generazione di un campo magnetico. Quindi, i due fenomeni dell'induzione elettromagnetica e della corrente di spostamento sono alla base di una ripetuta e continua generazione reciproca del campo elettrico tramite il campo magnetico e del campo magnetico tramite il campo elettrico. Ora, per discutere, senza far uso di complicati procedimenti matematici, ma in modo qualitativo, il fenomeno della generazione e della propagazione delle onde elettromagnetiche, è che consideriamo una carica elettrica, per esempio un elettrone, quindi con carica elettrica varia la carica elementare, coprese col segno meno, che sia in movimento. Supponiamo per il momento che questo elettrone si muova di velocità costante, v. Sappiamo già che le linee di forza del campo generato da una carica puntiforme sono semi-rette che partono dalla carica. Stiamo parlando del campo elettrico. Quindi una carica, anche ferma nello spazio, genera un campo elettrico con struttura radiale. Una carica negativa in particolare ha linee di forza che sono orientate verso la carica. Ora, nel momento in cui la carica si sposta, tutta questa struttura delle linee di forza dovrebbe essere immaginata in movimento nella stessa direzione verso della carica. Ora, questo significa che di fatto, nello spazio, l'intensità, la direzione del campo elettrico possono essere variabili. Quando la carica si troverà in un altro punto dello spazio avremo una nuova struttura radiale con semi-rette che partono da un nuovo punto, la nuova posizione della carica. Quindi effettivamente questa situazione può dar luogo ad una variazione nel tempo del campo elettrico. E questo tipo di esempio adatto a rappresentare il fenomeno della propagazione delle onde elettromagnetiche? Direi di no. E il motivo è molto semplice. Se la carica si sta muovendo di moto uniforme, possiamo sempre immaginare di riesaminare il fenomeno dal punto di vista di un nuovo sistema di riferimento che sia solidale con la carica elettrica. In questo sistema di riferimento la carica elettrica risulta ferma. Ora, se i due sistemi di riferimento sono in modo relativo all'uno rispetto all'altro con una velocità costante v, di fatto, se uno dei due è un sistema di riferimento inerziale, lo è anche l'altro. Abbiamo imparato che in relatività vale il principio di relatività, cioè le leggi della fisica hanno la stessa forma in ogni sistema di riferimento inerziale. E inoltre, il cambio di sistema di riferimento non può cambiare il fatto che un determinato fenomeno abbia luogo o no. Può cambiare i risultati delle misure. Cioè, il valore delle grandezze misurate, campo elettrico, campo magnetico in questo caso, può cambiare cambiando sistema di riferimento. Però il fatto che venga generata un'onda elettromagnetica oppure no, non può dipendere dal sistema di riferimento inerziale rispetto al quale si stiano facendo le misure. Di conseguenza, una carica elettrica in movimento dà sì luogo ad una situazione in cui si hanno dei cambiamenti nel tempo del campo elettrico e quindi possibilmente anche la generazione di un campo magnetico perché una carica elettrica che si muove di fatto costituisce una sorta di corrente elettrica. Però non siamo in presenza di un fenomeno non stazionario che sia di interesse, nell'ambito di queste equazioni, per generare un'onda elettromagnetica. diverso è il caso in cui una carica puntiforme, come abbiamo detto per esempio un elettrone, sia sottoposta ad una forza, F, per esempio attraverso una forza elettrica o una forza di Lorenz o qualunque altra forza che agisca su questa carica, e che quindi questa particella carica subisca un'accelerazione, ovviamente nella stessa direzione della forza. Se la carica subisce un'accelerazione, si muove sì, come prima, ma con una differenza. Se abbiamo un'accelerazione, la velocità di questa carica non è costante. Di conseguenza non possiamo trovare un altro sistema di riferimento inerziale in cui la carica risulta ferma. Quindi non possiamo applicare quanto stabilito dalle nostre conoscenze sulla relatività ristretta. Cioè non possiamo affermare che i due sistemi di riferimento, un sistema di riferimento di laboratorio nel quale stiamo osservando la presenza di questa accelerazione e un sistema di riferimento solidale con la carica siano equivalenti dal punto di vista dell'osservazione del fenomeno. Nell'ambito della relatività ristretta non è così. Il sistema di riferimento solidale con la carica in questo caso non è un sistema di riferimento inerziale in quanto è un sistema accelerato. Di conseguenza non c'è la simmetria dal punto di vista delle caratteristiche delle nostre osservazioni che abbiamo già osservato nel caso della carica in modo uniforme. Quindi nel caso di una carica accelerata effettivamente abbiamo la possibilità di avere fenomeni non stazionari e di fatti è possibile dimostrare non lo faccio con i dettagli matematici che queste equazioni prevedono nel caso di una carica sottoposta da accelerazione la generazione di una onda elettromagnetica. Ma che cos'è un'onda elettromagnetica? Un'onda elettromagnetica è un fenomeno ondulatorio. Nel caso delle onde elettromagnetiche si ha la propagazione di una perturbazione nelle proprietà del campo elettromagnetico immaginiamo ad esempio che in un certo istante venga generato un campo elettrico in una regione di spazio un campo elettrico che cambia nel tempo. Quindi io disegno, traccio a titolo di esempio un vettore campo elettrico dovuto al fatto che c'è una carica accelerata. Questo campo elettrico cambia nel tempo. il termine dell'equazione di Maxwell legato alla derivata rispetto al tempo del flusso del campo elettrico quindi quello legato alla corrente di spostamento diventa significativo in questo caso. Nel momento in cui ci sono campi elettrici variabili nel tempo la derivata rispetto al tempo di una qualunque funzione che dipende dal campo elettrico può essere diversa da zero. E questo termine dà luogo alla generazione di un campo magnetico. Infatti nell'equazione noi vediamo che c'è una circuitazione di campo magnetico che risulta essere diversa da zero nel momento in cui questa derivata è diversa da zero. Quindi il termine di corrente di spostamento nel momento in cui sia un campo elettrico variabile può dar luogo alla generazione di un campo magnetico. E allora nella stessa ragione di spazio abbiamo un campo magnetico con caratteristiche che dipendono da punto a punto la cui intensità cambia proporzionalmente a questo termine di corrente di spostamento. D'altro canto essendo variabile il campo elettrico sia da punto a punto nello spazio che nel tempo lo stesso campo magnetico generato non è una costante ma è anch'esso una funzione del tempo. A questo punto il termine dell'equazione di Maxwell corrispondente al fenomeno dell'induzione elettromagnetica cioè quello dipendente dalla derivata del flusso del campo magnetico rispetto al tempo dà luogo alla generazione nei vari punti dello spazio di un campo elettrico di un nuovo campo elettrico. Quindi abbiamo questo termine derivato dal flusso del campo magnetico rispetto al tempo che dà luogo alla generazione di un campo elettrico campo elettrico che non è necessariamente generato soltanto nel punto in cui tutto il processo è iniziato ma anche in altre zone dello spazio. Questo campo elettrico a sua volta è anch'esso funzione del tempo quindi di nuovo attraverso il termine di corrente di spostamento contribuisce a generare il campo magnetico via via in altre regioni dello spazio. Questo campo magnetico generato è dipendente dal tempo e dà luogo attraverso il fenomeno dell'induzione elettromagnetica alla generazione in regioni di spazio sempre più lontane del campo elettrico quindi anche il campo elettrico viene rigenerato continuamente in altri punti dello spazio. Questo meccanismo ricorsivo dà luogo alla propagazione della perturbazione elettromagnetica inizialmente generata in un punto in una regione limitata dello spazio attraverso l'accelerazione di una carica elettrica. A questo punto poiché la carica non viene non è necessariamente spostata in regioni lontane dal punto in cui inizialmente tutto il processo è iniziato il campo elettromagnetico generato in questo modo di fatto ha vita a sé continua ad autorigenerarsi in regioni sempre più lontane esattamente come fa una qualunque altra perturbazione meccanica che si propaghi attraverso un mezzo solo che in questo caso il mezzo di propagazione non è un mezzo materiale è semplicemente lo spazio vuoto attraverso il quale la continua rigenerazione del campo elettrico e del campo magnetico l'uno con l'altro dà luogo proprio alla propagazione anche a grande distanza dei due campi che sono strettamente interconnessi attraverso questi due fenomeni induzione elettromagnetica e corrente di spostamento. Con quale velocità si propaga la perturbazione? Ancora una volta evito trattazioni matematiche complesse andiamo semplicemente a cercare degli indizi nell'equazione di Maxwell o almeno quelle equazioni che contengono questo intreccio tra i due campi. Vediamo subito che in queste equazioni compaiono due costanti caratteristiche dei fenomeni elettrici e magnetici. La costante di elettrica y con zero e la permeabilità magnetica μ con zero solo che queste due costanti compaiono contemporaneamente nella stessa equazione in particolare nell'equazione comprendente la corrente di spostamento compaiono insieme e insieme contribuiscono a determinare il valore della velocità di propagazione delle onde. Non faccio alcuna dimostrazione matematica dico solo che proprio ragionando su queste due equazioni e sul fatto che comprendono questi coefficienti se si va ad esaminare il fenomeno in modo completo si verifica che la velocità di propagazione dipende proprio da queste due costanti ed è pari a c uguale a 1 sulla radice quadrata di y con zero per μ con zero. Se si prendono i valori conosciuti di queste due costanti 1 su radice di 8,854 per 10 alla meno 12 coulomb al quadrato fratto newton per metri quadri e si moltiplica per 4 pi greco per 10 alla meno 7 newton su amper al quadrato che è il valore della permeabilità magnetica nel vuoto si ottiene il valore della velocità della luce andiamo a verificare intanto newton e newton si va a semplificare coulomb al quadrato fratto amper al quadrato ricordiamoci che amper è una corrente elettrica e quindi la carica elettrica può essere vista come prodotto di una corrente per un tempo quindi amper per secondi è uguale a coulomb quindi il rapporto a coulomb al quadrato su amper al quadrato è pari a amper al quadrato per secondi al quadrato fratto amper al quadrato ecco che in parte coulomb al quadrato e amper al quadrato si semplifica e dà luogo a secondi al quadrato quindi cancelliamo queste due ma facciamo comparire un secondi al quadrato quindi abbiamo secondi al quadrato su metri quadri che sta al denominatore passando al numeratore diventa metri quadri su secondi al quadrato ed è tirando fuori il tutto dalla radice quadrata salta fuori un metri su secondi cioè esattamente l'unità di misura della velocità nel sistema internazionale poi abbiamo 10 alla meno 12 per 10 alla meno 7 che fa 10 alla meno 19 vediamo di esaminare la parte numerica adesso c'è un 10 alla meno 19 poi abbiamo un 8,854 per 4 pi greco prendiamo a prestito una calcolatrice 8,854 per 4 per pi greco prendiamo un 3,14 giusto per prendere un po' l'ordine di grandezza 111 ha tre cifre significative quindi abbiamo 111 per 10 alla meno 19 diventa 1,11 per 10 alla meno 17 o 11,1 per 10 alla meno 18 10 alla meno 18 uscendo fuori dalla radice diventa 10 alla meno 9 ed invertito passando al numeratore diventa 10 alla 9 metri su secondi però adesso abbiamo 1 sul radice di 11,1 eseguiamo il calcolo 1 diviso 11,1 sotto radice ci da 0,300 a tre cifre significative lo riportiamo nei nostri calcoli e abbiamo 0,300 per 10 alla 9 metri su secondi e tornando alla notazione scientifica abbiamo 3,00 per 10 alla 8 metri su secondi cioè esattamente il valore almeno tra cifre significative conosciuto per la velocità della luce quindi la velocità con cui si propaga una perturbazione elettromagnetica derivabile dall'equazione di Maxwell corrisponde esattamente con il valore misurato per la velocità della luce per avere un'idea più chiara di come si propaga una perturbazione si genere si propaga una perturbazione elettromagnetica cerchiamo di stabilire cosa succede quando una carica elettrica per esempio un elettrone subisce un'accelerazione di natura armonica per esempio viene sottoposta ad una forza di natura elastica la carica quindi viene spostata avanti e indietro con una frequenza F le onde elettromagnetiche generate in questo caso sono onde di tipo sinusoidale con la stessa frequenza con cui la carica sta oscillando esattamente come avviene per le onde meccaniche le onde di natura acustica si propaga una perturbazione che è esattamente la stessa frequenza della perturbazione iniziale una visualizzazione può essere ottenuta con un'animazione java che prendiamo in prestito da un'università americana che l'ha messa gentilmente a disposizione e allora qui abbiamo la rappresentazione grafica dell'andamento del campo elettrico in funzione della posizione dopo un certo tempo che una carica ha cominciato ad oscillare vediamo che ci sono dei massimi e dei minimi e dei punti in cui il campo elettrico vale zero il profilo della variazione da punto a punto è di tipo sinusoidale questa è una fotografia scattata ad un determinato istante lungo l'asse x che è la direzione di propagazione del segnale abbiamo quindi il campo elettrico che segue un profilo sinusoidale se adesso andiamo a vedere cosa succede man mano che passa il tempo lo stesso profilo come avviene in tutti i tipi di onde si sposta e i massimi e i minimi come tutti gli altri punti con fasi diverse dal massimo e dal minimo si spostano con una velocità pari alla velocità di propagazione dell'onda che è qui indicata da questo vettore c possiamo visualizzare anche il campo magnetico che in corrispondenza è presente anche qui abbiamo un profilo sinusoidale per il campo magnetico il campo magnetico ha una direzione perpendicolare quindi se il campo elettrico ha una direzione il campo magnetico ha una direzione perpendicolare ma i massimi e i minimi corrispondono cioè laddove c'è un massimo per il campo elettrico c'è un massimo anche per il campo magnetico laddove c'è uno zero per il campo elettrico abbiamo uno zero anche per il campo magnetico tutte e due i profili ovviamente si propagano nello spazio esattamente come abbiamo visto un'altra visualizzazione tridimensionale questa a gentile concessione di dell'università di Toronto sviluppata da David Harrison ci permette di visualizzare la propagazione nello spazio di campo elettrico e campo magnetico perpendicolari secondo un profilo sinusoidale l'oscillazione armonica genera quindi una perturbazione armonica ovviamente non è detto che una carica debba per forza subire un'accelerazione di tipo armonico cosa succede se l'accelerazione è di tipo diverso per esempio una cosa abbastanza frequente potrebbe essere un'accelerazione dovuta al passaggio di una carica elettrica vicino a un'altra carica elettrica per esempio supponiamo di avere un elettrone che è in moto con velocità v che viene a trovarsi nella regione di spazio interessata da un campo elettrico generato da un nucleo atomico c'è una particella dotata di carica positiva l'elettrone esattamente come fa una cometa che si avvicina al campo gravitazionale della Terra subisce una deviazione nel suo moto dovuta al campo elettrico generato dai protoni presenti nel nucleo c'è da dire che la massa del nucleo è certamente molto più grande della massa dell'elettrone per cui anche se tecnicamente il protone i protoni presenti nel nucleo e tutto il nucleo nel suo insieme subiscono un'accelerazione da parte dell'elettrone questa accelerazione è molto più piccola in ragione del rapporto tra le masse dell'accelerazione subita dall'elettrone esattamente come un piccolo satellite che passi vicino alla Terra anche la Terra subisce un'accelerazione ma solitamente trascurabile allora questa è una carica accelerata e come previsto dall'equazione di Maxwell dà luogo alla emissione di onde elettromagnetiche ma questa non è un'accelerazione armonica di conseguenza le onde elettromagnetiche che vengono generate non sono onde monocromatiche con un ben determinato valore di frequenza in realtà le onde elettromagnetiche che vengono generate in questo caso hanno uno spettro di frequenze abbastanza ampio quindi ci sono tanti possibili valori della lunghezza d'onda lambda e della frequenza f delle onde emesse quello che è certo è che l'elettrone se inizialmente aveva un'energia cinetica K1 alla fine avrà un'energia cinetica K2 ed una velocità V2 minore di quella iniziale in sostanza l'emissione delle onde elettromagnetiche dovuta all'interazione con un nucleo atomico determina un passaggio di energia dall'energia cinetica dell'elettrone alle onde elettromagnetiche emesse l'emissione di onde elettromagnetiche infatti richiede energia intanto premettiamo che questo tipo di emissione prende il nome di bremstrahlung è un termine tedesco che sta per radiazione di frenamento l'elettrone l'elettrone viene frenato in qualche modo cioè perde energia e contestualmente abbiamo l'emissione di radiazione elettromagnetica è un fenomeno che per la maggior parte delle caratteristiche è interpretabile classicamente attraverso l'equazione di Maxwell queste onde abbiamo detto trasportano energia cerchiamo un attimo di rivedere sinteticamente come mai un'onda elettromagnetica che debba trasportare energia infatti al campo elettrico come al campo magnetico è associata un'energia lo rivediamo un attimo per il caso del campo elettrico se abbiamo un condensatore piano tra le cui armature opportunamente caricate si genera un campo elettrico campo elettrico che sappiamo essere uniforme sappiamo che per ottenere la carica del condensatore è necessario fornire energia al condensatore attraverso un generatore il lavoro di carica del condensatore è noto è pari ad un mezzo per la carica totale presente nell'armatura del condensatore carica positiva e carica negativa moltiplicato la differenza di potenziale presente tra le armature del condensatore stesso l'energia necessaria per caricare il condensatore di fatto può essere interpretata come energia necessaria per creare il campo elettrico presente tra le armature del condensatore ricordiamoci che la differenza di potenziale delta V può essere scritta anche come prodotto del campo elettrico presente tra le armature del condensatore per la distanza tra le armature di conseguenza il lavoro di carica è anche pari ad un mezzo per la carica per il campo elettrico per la distanza d'altro canto la carica presente sulle armature del condensatore è legata al campo elettrico dal fatto che il campo elettrico è direttamente proporzionale alla densità di carica presente sulle armature il rapporto Q su S dove S è la superficie delle armature del condensatore chiamato sigma determina proprio l'intensità del campo elettrico il campo elettrico è infatti dato da sigma fratto y con 0 cioè Q fratto y con 0 per S quindi al posto di Q qui possiamo far spuntare il prodotto del campo elettrico per y con 0 per la superficie dell'armatura del condensatore infatti da qui otteniamo Q uguale y con 0 per S per l'intensità del campo elettrico quindi il lavoro di carica del condensatore è pari ad un mezzo y con 0 per la superficie delle armature per il campo elettrico e questa è l'espressione della carica e poi abbiamo ancora il campo elettrico per la distanza ora il campo elettrico compare due volte quindi abbiamo il campo elettrico al quadrato invece il prodotto della superficie delle armature per la distanza tra le stesse armature rappresenta il volume racchiuso tra le armature del condensatore se indichiamo questo volume con la lettera v in corsivo per distinguerla dalla v usata per la differenza di potenziale abbiamo per il lavoro di carica un mezzo y con 0 per il campo elettrico al quadrato per il volume v compreso fra le armature si può dare a questo lavoro di carica la seguente interpretazione un mezzo y con 0 e quadrato rappresenta l'energia legata al campo elettrico per unità di volume moltiplicando questa densità di energia per il volume il volume di spazio in cui è presente questo campo elettrico si ottiene l'energia totale accumulata nel condensatore questo significa che l'energia per unità di volume legata alla presenza di un campo elettrico è determinata da questa espressione la indiciamo con la u minuscola densità di energia per unità di volume un mezzo y con 0 e quadro quindi la densità di energia legata al campo elettrico è direttamente proporzionale al quadrato dell'intensità del campo elettrico stesso con un ragionamento analogo basato sull'analisi quantitativa del campo magnetico generato da un solenoide ricordiamoci che il campo magnetico all'interno di un solenoide è a linea di forza parallele quindi è un campo uniforme di intensità proporzionale all'intensità della corrente che passa nel solenoide bene si può fare un ragionamento analogo a quello fatto per il condensatore piano e calcolare il lavoro necessario per portare l'intensità di corrente nel solenoide al valore diciamo di regime il valore costante I ovviamente dipende dalle nostre scelte dipende dal generatore che viene collegato al condensatore e al solenoide e alla resistenza del circuito bene si può dimostrare che la densità di energia legata al campo magnetico quindi questa legata al campo elettrico quella legata al campo magnetico è pari a b al quadrato il quadrato dell'intensità del campo magnetico fratto due volte la permeabilità magnetica nel vuoto quindi tanto l'intensità del campo elettrico quanto l'intensità del campo magnetico determinano l'energia presente in una determinata regione di spazio legata a questi campi in generale la densità di energia quindi energia per unità di volume legata alla presenza di un campo elettromagnetico è data da un mezzo ε con zero campo elettrico al quadrato più un mezzo b al quadrato fratto μ con zero questo significa che nel momento in cui si ha a che fare con un'onda elettromagnetica che nello spazio dà luogo alla presenza tanto di campo elettrico che di campo magnetico si ha una certa quantità di energia e questa energia viene trasportata con una velocità pari alla velocità della luce quindi l'intensità di un'onda elettromagnetica cioè l'energia per unità di tempo e per unità di superficie viene trasportata da un'onda elettromagnetica ricordo che l'intensità si esprime come unità di misura in watt su metro quadrato quindi energia per unità di tempo e per unità di volume è legata proprio alle ampiezze dei campi elettrici e magnetici oscillanti e l'intensità è infatti proporzionale al quadrato dell'ampiezza del campo elettrico e del campo magnetico quindi riassumendo per generare un'onda elettromagnetica è necessaria energia l'onda elettromagnetica trasporta energia e quindi una carica che venga sottoposta ad accelerazione ricordiamo che accelerazione in termini genetico non vuol dire che la velocità sta necessariamente aumentando in questo caso si ha una deviazione della traiettoria e se si ha emissione di onde elettromagnetiche abbiamo anche una perdita di energia cinetica alla fine l'elettrone si muove a velocità più bassa rispetto a quella iniziale nell'interazione con il campo elettrico dovuto alla presenza di un nucleo questo fenomeno che abbiamo chiamato radiazione di frenamento in qualche modo può essere visto come qualcosa di inverso all'effetto fotoelettrico in cui invece un'onda elettromagnetica fornisce energia ad un elettrone qui è un elettrone invece che permette di creare un'onda elettromagnetica dando ad essa energia a sue spese ovviamente quello che discuteremo nella prossima lezione è invece che cosa succede quando un'onda elettromagnetica interagisce con una carica carica che può essere libera un elettrone cioè che si muove liberamente nello spazio o una carica che può essere legata ad un atomo per esempio un elettrone che ruota attorno ad un atomo di derogeno ad un atomo di piomba o qualunque altro atomo qualunque sia la sua natura chimica i fenomeni che andremo ad analizzare in questo caso permettono di vedere quali sono i limiti della fisica classica nello studiare questo tipo di fenomenologia